Ciao amici, ho bisogno di tutti. Sono solo, senza patente, non sto bene. Però mi scoccia essere derubato di un terzo della vendita lasciata da mia madre. E' per questo che l'ho scritto su Facebook. Io vorrei un po' di pace per tutti. Anche, soprattutto per me stesso. Ciao. Ciao!